ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video sfida pazzesca sera completo è notte non si vede niente siamo in mezzo al bosco per una sessione di allenamento notturna adesso sigla e dopo vi faccio vedere le luci che useremo perché sennò qua non si vede niente eccoci qui allora due fari montati per oggi faro a led upgrade per la gas gas e poi una cosa che non può mai mancare è la luce che ci metteremo in testa questa volta avremo una torcia devastante è la true night catapult pro questa qua la torcia non tanto pesante però un po più grandina useremo un attacco di quelli compatibili gopro per installarla qua dopodiché illumineremo a giorno adesso montiamo e poi iniziamo la sessione di allenamento è arrivato il momento di montare la super torcia tra l'altro la star di questo video non sono io ma è sophie dietro la camera che viene nella notte piena a girare i video ma è più gasata di chiunque ok torcia stretta siamo operativi si parte ok ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Illumina a giorno. Guarda che roba. Pazzesco. Niente acceso. Devastante. Andiamo. Siamo a metà allenamento sono davvero stremato, faticosissimo, ho fatto già un anello, sono tornato qua da Sofi per spiegare brevemente il funzionamento anche della Catapult Pro che come l'Archer Pro di cui trovi il video qua in alto a destra ha un solo tasto qui che ci permette di spegnere e accendere. Poi se teniamo premuto possiamo diminuire l'intensità fino a quando lampeggia che è l'intensità minore. Riteniamo premuto, lei inizia a salire di intensità fino a quando lampeggia è al massimo. Poi da spenta con due tocchi mettiamo modalità turbo e da spenta con tre tocchi abbiamo lo strobo. Questo qua fa impazzire tutti. Poi slot di ricarica USB-C qui dietro nascosto la torcia impermeabile non riesco adesso perché ho i guanti però è davvero una figata la durata è pazzesca sono già tipo a un'ora e mezza e per ora funziona ancora la grande. Adesso metto il casco continuo l'allenamento. Adesso metto il casco continuo l'allenamento. Che botta! Bene ragazzi! Il video finisce qui mi raccomando ho lasciato il link della torcia Catapult Pro di TrueNight qua sotto in descrizione. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commentino. Iscrivetevi al canale se non lo siete come sempre. Gas, alla prossima! Ciao ciao!